Dalla passione per Maria e dal lavoro dell'anno scorso che ha suscitato grande entusiasmo, quest'anno un altro videoclip musicale dedicato alla Madonna. Sì, quest'anno abbiamo voluto completare l'esperienza iniziata dell'anno scorso realizzando un cortometraggio composto appunto sempre da un videoclip musicale con due brani dedicati a Maria, ma aggiungendo delle illustrazioni che andranno a comporre un fumetto animato in cui viene raccontata per immagini e il ritrovamento di questa immagine appunto di Maria Santissima dei Miracoli avvenuta il 21 giugno 1547 che dà il nome a tutto il cortometraggio. Quindi nel videoclip musicale innanzitutto di chi è l'idea, la regia? Allora la scenografia l'ho curata personalmente, la proposta è dalla comunità volontaria del Vangelo di cui faccio parte, la regia è stata affidata a Mauro Bosco e gli arrangiamenti musicali a Raffaele Santonastaso. Come sarà composto questo videoclip? Allora, il videoclip musicale, oltre ad ascoltare quindi questi brani dell'Aurora e Maria Vogliamo a Marti sarà percorso praticamente le città di Alcamo, la vedremo la chiesa madre in una veste particolare, anche il santuario, ma interverranno diversi alcamesi anche coinvolti per strada direttamente. Quest'anno il progetto è più ampio, hai pensato di realizzare anche un'illustrazione dedicata a chi e con quale auspicio? Allora, dedicata sicuramente a Maria e mi auguro a tutti gli alcamesi che possa essere accolta con gioia perché ho voluto dare volto in chiave moderna appunto a questa storia. Ho pensato di fare appunto delle illustrazioni incaricando il noto fumettista Christian Galli che possa dare un volto moderno a questa storia che non è dedicata solamente ai più giovani ma a tutti. Questa pubblicazione che è stata presentata da Monsignor Giordano, arciprete della nostra Basilica della Chiesa Madre, che non solo la presenta ma ci offre una mirabile chiave di lettura in senso storico, biblico, cristologico di questi fatti. Questa pubblicazione è completa non solo delle illustrazioni ma alla fine ci sembra una sezione con dei disegni che i bambini possono colorare. Ma ripeto, non perché sia rivolto solo ai più piccoli ma perché io immagino un genitore, un nonno, uno zio che sedendosi accanto a loro possa riscoprire questa storia. Questa pubblicazione tu la presenterai al pubblico quando? Sì, tutto sarà presentato sia il progetto editoriale che il cortometraggio domani pomeriggio alle 17, quindi domani sabato 19. Alle 17 presso il Collegio dei Gesuiti unitamente con la Biblioteca Civica che ha incaricato la mia comunità volontaria del Vangelo di curare un laboratorio all'interno del progetto nati per leggere noto a livello nazionale. Questa pubblicazione dove si può trovare? Momentariamente noi stiamo cercando di lanciarla e farla trovare il più possibile quindi in tutte le liturgie religiose che compongono il triduo e gli orari si trovano appunto nel programma religioso. Dopodiché cercheremo comunque di lasciarlo sia in certe chiese ma anche in alcuni negozi sarà reperibile. Questo progetto è anche un progetto multimediale? Assolutamente, infatti nel momento in cui una persona riceve il fascicolo sul retro trova il codice QR dove intanto può vedere i fumetti animati ascoltando la voce del grande doppiatore Luca Violini che è sempre stato volentieri a questo progetto. Speriamo possa arrivare nei cuori di tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.